Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi porto, dove vi parlo della mia prima giornata del Fanta Calcio del Fanta Calcio a 8, già quell'altra volta ho fatto il video che vi ho presentato la mia formazione in questo Fanta Calcio e vi ho presentato la mia formazione in questo Fanta Calcio ora vi dico già il risultato della prima giornata del Fanta Calcio come un po' ho fatto l'anno scorso in quell'altro Fanta Calcio uguale, uguale partiamo un po' dalla sua formazione la sua formazione in porta ha schierato Reina Godo perché poi in panchina è rimasto Ripatricio che ha preso 6,5 ha subito il gol però ha preso 6,5 comunque perché ha fatto un'ottima prestazione ha messo Reina che ha preso 3,5 perché poi oltre ai due gol ha subito anche la munizione in difesa ha schierato Manolas 4,5 e Cicoto ha preso 4,5 Manolas ha schierato Manolas, poi ha schierato Desivless che ha fatto un'ottima prestazione 6,5 e ha schierato il maestro Mario Lui che ha preso 6 quindi a porta e difesa discretamente gli è andata così e così a centrocampo Caleo 5 Pessina 6 Miguel Veluso Miguel Veluso non ci ha giocato e quindi gli è entrato Zielischi che gli ha preso 6 Mertens, non so perché ha messo Mertens però non ci ha giocato però gli è entrato Lozano che ha preso 5,5 Cutrone 5 C'aveva Raffaele Au C'aveva Raffaele Au C'aveva Raffaele Ho detto prima che iniziasse la giornata prima che faceva la partita del Milan contro Lazio ho detto che con tanti giocatori segna proprio Raffaele Au che ce l'ho contro ma no, ma no, ma no invece no, invece no Leao freddo lucido sotto porta e regala un 10 a Raffaele Au invece la mia formazione a me hanno giocato tutti quindi la panchina non mi è proprio servita però in panchina ho lasciato dei giocatori che veramente vabbè poi ne parliamo ora vi dico prima la mia formazione che ho schierato come fanta allenatore Skorupski non me ne pento di averlo schierato perché poi in panca ho lasciato Spina che ha preso 5,5 Zot che ha preso un goal invece poi ho schierato Skorupski che contro il Verona il Bologna ha vinto 1 a 0 quindi lui ha fatto anche una bella prestazione ha avuto 6,5 bravo Skorupski, ottimo se continui così non mi rimbiancherò di te perché comunque ti ho pagato un credito Strieger in difesa Strieger Larsen, 6 sufficiente Mancini, 6 Singo, 6,5 ottimo Singo ottimo, ottimo il portiere e la difesa ottimi, ottimi belle prestazioni e qua viene un po' il centrocampo che si è risultato un po' insufficiente tranne uno Damsgaard 5,5 quindi insufficiente mi aspettavo qualcosina in più ma poi dovevo mettere Pratt che ha preso 6 o Zaniolo 6 o Kovalenko se mettevo uno di questi qua comunque mezzo voto in più perché non cambiavano le carte poi chi avevo calcio di rigore Bairami freddissimo dal dischetto ha preso 10 ha preso 10 e un 10 che si rende utile grande Bairami Felipe Anderson un altro insufficiente 5,5 un altro ancora insufficiente Mkhitaryan Mkhitaryan mi aspettavo qualcosina in più da Mkhitaryan però però non è stato così 5,5 sono insufficiente invece poi l'attacco ho schierato ho schierato Zlatan Ibrahimovic che ora purtroppo si è infortunato di nuovo però sembra nulla di grave salterà solo Liverpool e contro la Juve ci sarà una buona percentuale ci sarà oppure partirà dalla panchina e poi subentrerà comunque ci dovrebbe essere contro la Juve salterà solo la Champions che in Champions a me a me non interessa Ibra e non interessano quegli altri giocatori che o le squadre che giocano la Champions a me interessa solo Ibra in campionato e Ibra ha preso 10 godo godo entra e segna gol facile però comunque il 10 grande Ibra bravo Ibra un 10 che veramente mi fa comodo Gio Pedro trasforma il calcio di rigore prende 9 prende 9 perché perché è stato ammonito è stato ammonito però comunque mi segna è comunque buono e poi e poi e poi dici voi dite hai messo un Rebic no ma hai messo un Zapata no no non ho messo nessuno di questi due non ho messo né Rebic che ha preso 9 e mezzo perché ha fatto due assist ha fatto una prestazione incredibile e né il Zapata che ha segnato il rigore e ha preso 9 e mezzo no non li ho messi allora chi ha messo Pedro no Pedro anche se lo mettevo prendeva 5 e mezzo ho messo Edin Dzeko cazzarola Edin Dzeko Edin Dzeko che mi ha preso 5 e mezzo perché vabbè prendeva 6 senza l'ammunizione però con l'ammunizione 5 e mezzo eeeh invece invece lo sapete che ho rimasto in panchina oltre ai Rebic ha fatto due assist e ha preso 9 e mezzo e Zapata che ha segnato il rigore e ha preso 9 e mezzo sapete che ho rimasto in panchina lo sapete che ho rimasto in panchina Di Marco Di Marco ho messo in panchina Di Marco che ha segnato una punizione incredibile straordinaria non ha subito nessuna munizione mi prende 10 però dove ce l'ho ce l'ho in panchina 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 vabbè ma poi streghellarsene mica ti ho fatto così ma ha preso una sufficienza un 6 mancini mica ti ho fatto così ma ha preso 6 e potevo mettere noiting noiting ha preso un 6 e mezzo ha preso un 6 e mezzo noiting ha preso un 6 e mezzo noiting e quindi se lo mette ho mezzo voto in più ma 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 lui i loro giocatori lascia che ha un attacco veramente brutto però a muriel che è infortunato quando gli rientra muriel potrà fare qualcosina in più ma con questa squadra secondo me non potrà lottare per vincere questo manda calcio però 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 ho vinto ho perso ho pareggiato ho vinto ho vinto la prima giornata l'ho vinta è sempre buono partire con il piede giusto il piede giusto e vincere già la prima giornata è qualcosa di incredibile e è anche buono è anche buono ottimo la prima buona la prima sono contento della mia squadra potevo fare meglio a mettere la formazione perché lasciare un Rebic un Zapata in panchina se le avremmo in istituto e due facevo Ibrahimovic Rebic e Zapata facevo anche il terzo goal facevo anche il terzo goal perché sono rimasto a 76 punti lui 63 e mezzo quindi facevo anche il terzo goal non dico Fesseri 2 a 0 se mette a fuoco la camp FG Barcellona sono io AC 2 a 0 quindi AC 2 a 0 e niente poi la prossima la prossima la devo giocare contro contro l'altro e controlliamo la classifica allora ha vinto SC SC Napoli ha vinto FC ho perso ho vinto io FC Barcellona mi chiamo e ha vinto i Trimoni poi altri hanno perso tutti non è capitato un parigi niente non è capitato un parigi comunque comunque ragazzi la classifica ancora presto per vedere però è sempre buono è sempre buono partire con il piede giusto è sempre buono partire con il piede giusto dai ragazzi continuiamo così dai ragazzi che lotto a vincere questo fantacalcio perché la squadra c'è e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate tantissimi like iscrivete al canale attivate la campanellina lasciate un commento fatemi sapere dove potrà arrivare con questa squadra al fantacalcio e potrò vincere se arriverò tra le prime quattro se arriverò secondo se arriverò terzo fatemelo sapere un pronostico qui sotto è inizio ciao ragazzi